Mister, quale è emozione tornare al Del Duca dopo tanto tempo? Beh, conoscevo questa piazza, conoscevo questo pubblico, quindi sono rimasto sorpreso sì, ma non del tutto, perché so di quanto sono capaci. Mi ha fatto piacere, ho incontrato tanti amici nel passato, avversari, delle squadre dove ho giocato, i miei vecchi giocatori dell'Ascoli. Meglio di così non poteva andare. Un saluto a tutti e speriamo che l'Ascoli possa tornare nella categoria che più le compete, che è quella della Serie A che ha calcato per tanti anni.